Allora ciao San Paolo, noi siamo i figli di Sior, quest'anno in grandissima formazione, come potete vedere, le divide, siamo bellissimi così. Allora, che dire, cercheremo un po' di tenervi in compagnia a questa festa di San Paolo, al modo nostro, se non tutto orrà per il meglio, noi ci abbiamo provato, d'altro l'altro noi non siamo una band leggendaria, ci proviamo così. Andiamo a fare un po' il giro della band per presentare chi suonerà questa sera. Sta suonando le tastiere adesso, Massimo, e ci sta un applausino giusto per farci sentire. Ok, andiamo avanti in giro dei figli di Sior, qua di fianco a me, un olio entro dei figli di Sior, ma in quanto ha esperienza veramente poco da imparare, un applauso per l'Ele Valdelli a basso. Andiamo avanti, andiamo al reparto percussione. Lui è qua dietro, è coperto dai tamburi, è coperto dai piatti, ma c'è il nostro Giovanni alla banderia. Alla percussione di fianco lui, al blocco, Ricky. Andiamo al piano alto di qua davanti a me. Signori, lui fa parlare dai suoi banners, anche lui veramente poco da imparare. Moreno, ma la chitarra! Oh, sono rimaste le tre voci dei figli di Sior. Il mio braccio sinistro, l'uomo che non deve chiedere mai, Fabrizio! Anche lei, io entro i figli di Sior, la voce femminile, dopo avrete modo di sentirla, Alessandra! E qui spazzo la classe, ultimo venunciato per importanza, il nostro mitico leader, Dado Cecchini! Troppo, troppo! Questi signori sono i figli di Sior. Cercheremo di fare tutto il meglio e buon appetito! Ok! Benissimo! La presentazione ve l'abbiamo fatta.